Sono Laura Martin, siamo nei sotterranei dell'industria di Mittelbau e questa è la struttura della galleria. Nella prima parte ci sono i dormitori dove per addirittura sei mesi i deportati, i concentrati in questo campo, hanno dovuto dormire in condizioni terribili, mandare e vivere assieme con condizioni igieniche insopportabili e ci sono state appunto 6.000 vittime per questo. C'è un secondo settore adibito alla costruzione del razzo V1, una seconda alla costruzione del razzo V2 e la parte finale era invece posta per la costruzione dei motori delle aerei. Questo è tutto.